Buongiorno a tutti elettronauti e anche oggi Tesla è nel mirino, questa volta con la sua tecnologia di autopilot, ma non parleremo solo di lei, parleremo anche della tanto attesa NIO, Teng, Renault 4 e 5, navi da crociera e tanto altro, sì una nave da crociera elettrica certo, quindi sedetevi comodi sulla vostra sdraio, mettete i piedi a mollo nel mare, inserite le cuffiette nei vostri bei padiglioni auricolari e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo che sarò il 26 settembre ad Ala in Trentino per un evento di mobilità elettrica, ci troviamo tra le 10 e le 11, vi dico già subito che non c'è bisogno del Green Pass perché trattandosi di un evento sportivo bastano le mascherine e il distanziamento sociale e cosa importante non dovete necessariamente avere un'auto elettrica per partecipare, potete venire anche con la vostra auto termica o elicottero, non siamo assolutamente schizzinosi, i posti sono limitati quindi mi raccomando segnalate la vostra presenza tramite il link che trovate in descrizione, partecipate numerosi, ci sarà da divertirsi parecchio. Come sapete ragazzi ho parlato più volte dell'autopilot Tesla nei miei video, l'ho messo anche a dura prova e generalmente si è sempre comportato in maniera diversa. Elon Musk più di una volta è intervenuto su questa tecnologia, prima con il Model S e il Model X, poi con il Model 3 e il Model Y e nel tempo è migliorato molto. Ultimamente poi in America è stata lanciata anche una nuova beta che promette di cambiare il tutto ancora in maniera epocale, sto parlando della versione 9 del software dove i tecnici Tesla hanno rimosso dall'equazione il sensore radar ed hanno imparato a fare totale affidamento solo sulla computer vision. Ve ne ho già parlato ma oggi dobbiamo ribadirlo ancora una volta. Nel tempo, esattamente dal 2008 ad oggi, sono stati registrati 11 incidenti con coinvolti 17 feriti ed un morto. L'americana National Highway Traffic Safety Administration, l'ente che cura le autostrade in America, ha aperto un'indagine su questi 11 episodi. Il motivo non è chiaro al momento ma si suppone che Tesla sia sotto indagine perché sembrerebbe che in tutte le dinamiche di questi incidenti sia coinvolto un mezzo di soccorso. Mi spiego meglio. Sembrerebbe che le auto Tesla, quando in autopilot, in condizioni di scarsa illuminazione e dopo il tramonto, in caso di intercettamento di luci forti e intermittenti, impazziscano e finiscano per schiantarsi. E questa cosa accade su tutti i modelli di Tesla, segno che deve esserci qualche bug resistente agli aggiornamenti fatti nel tempo. In tutti questi 11 incidenti, in analisi, Autopilot purtroppo era attivo appena prima dell'impatto con il veicolo d'emergenza. Tesla, d'altro canto, è comunque in una botte di ferro, dato che raccomanda sempre al guidatore di essere vigile e attento alla strada. Ma anche se in una botte di ferro, l'indagine fa paura, talmente tanta paura che anche le azioni Tesla ne hanno risentito. Hanno perso infatti il 5%, uno bello scivolone direi. È probabile che tutte queste preoccupazioni spariscano presto, magari con la nuova versione del software, che sembra essere sempre più pronta e stabile per solcare anche le nostre strade. Ma ditemi ragazzi, voi vi fidereste di Autopilot? Ma continuiamo a parlare di Tesla e lo facciamo con Model Y, perché finalmente è arrivata, finalmente è tra noi la prima Model Y. No dai, davvero scusate, dovrei dire la seconda Model Y. La prima infatti la portai io in Italia quasi un anno fa e ci feci pure parecchi video. Mi dici piace Tesla? Questa volta non sei arrivata prima. Vabbè dai, dettagli. Elon Musk questa volta però non ha affatto mantenuto le promesse. Model Y infatti viene prodotta in Cina anziché dalla Germania e viene venduta con le batterie classiche e non le nuovissime in ritardo clamoroso 4680, le celle di nuova generazione che promettono densità energetica maggiore, maggiore ciclo di ricarica, minore dispensione di energia, minori costi, maggiore sicurezza e maggiore autonomia. Vabbè, anche qui dettagli. Per tutti quelli che l'hanno ordinato ora quindi c'è questo modello, anzi c'è disponibile alla consegna il modello Long Range. Per il modello Performance bisognerà attendere fino al 2022. Non saprei ragazzi, forse è meglio aspettare la versione tedesca. Voi cosa ne dite? In ogni caso io spero di portarvela presto sul canale. Potrei forse cambiare idea. Ma ora spostiamoci leggermente più in alto della Germania andando in Norvegia dove le NIO, queste auto cinesi di cui vi ho parlato spesso in altri video, sono già debuttate. Il buon William Lee, il CEO della cinese NIO, sta progettando di lanciare un nuovo brand distaccato dal principale e focalizzato sul costruire auto più accessibili al mercato di massa. Sicuramente è una buona idea anche se boh star lì a creare un automarchio appositamente per fare auto, sempre elettriche, però di fascia bassa, scelte strane, ma fa niente. L'importante è che le auto elettriche piccole ed economiche arrivino presto. Tutto il resto è fuffa. E rimaniamo per un attimo velocissimamente ancora in Norvegia dove è arrivato, attraccato da poco, un nuovo marchio si chiama Byd, B-Y-D, e il suo creatore ha affermato che mira a consegnare 1500 SUV elettrici entro la fine dell'anno. Pochini, ma ok, da qualche parte bisogna pur cominciare. E a proposito di cominciare da qualche parte, ecco Renault che comincia a seminare l'hype attorno alla sua Renault 5, la D della casa francese, infatti ha recentemente specificato che arriverà una nuova versione di Renault 5, ma anche di Renault 4, e che entrambe saranno caratterizzate da un design pop-retro. Che ne dite? Vi piacciono? Rimaniamo ancora in Europa e parliamo questa volta di Audi e Porsche che hanno recentemente comunicato di essere al lavoro su una nuova piattaforma per auto elettriche. Il suo nome è DPI e sembra che sia veramente innovativa. La sua innovazione è la flessibilità con la quale è stata disegnata. Ad esempio la sua altezza da terra sarà variabile da un minimo di 152 mm ad un massimo di 217 mm, quindi si potranno basare su questa piattaforma sia auto elettriche SUV che berline o anche sportive. Potrà montare una batteria di massimo 100 kWh e teoricamente dovrebbe raggiungere anche 700 km di autonomia in ciclo VLTP. Avrà degli accumulatori speciali per potersi ricaricare ad 800 V o 270 kW e dovrà un motore da 475 CV e una coppia di più o meno 800 Nm. Ah e ragazzi ogni tanto si sente parlare di accumulatori, 800 V, eccetera. Fatemi sapere se volete un video specifico su queste tecnologie qui sotto nei commenti. E a proposito di tecnologie ragazzi, chi pensava che la corsa alla trazione elettrica riguardasse solo auto e moto? Beh io di certo no, ho sempre saputo che prima o poi qualche pazzo cominciasse a infilare batterie e motori elettrici su mezzi di grandi dimensioni come aerei e barche. E sì di barche stiamo parlando, ma non barchette o motoscafi, qui stiamo parlando della cinese Yanzè River Tree Gorgeous One, ovvero la più grande nave da crociera al mondo a zero emissioni. Un mostro acquatico che entro quest'anno sarà in grado di ospitare circa 2000 passeggeri e che all'inizio sarà destinata a viaggiare sul fiume Yanzè nel cuore del paese in una tratta che parte dalla città di Yinchan e si conclude a Chongqing, l'avrò detto giusto? Vabbè, a rendere possibile la sua navigazione troviamo la bellezza di 10.000 celle fornite da Kattel, rinomata società cinese fondata nel 2011 che è riuscita a realizzare una super batteria da 7,5 MWh, esattamente come se 100 Tesla Model 3 si accendessero tutte insieme. Ma sapete una cosa? Questa non è la prima nave completamente elettrica, infatti esiste un qualcosa di simile in Danimarca, un traghetto chiamato Hellen, che monta batterie da 4,3 MWh. E se vogliamo essere pignoli ci sono anche altri natanti elettrici, diciamo ibridi però, come ad esempio il Color Hybrid, un vestione lungo 160 metri e largo 33, dotato di 4 motori diesel Rolls Royce e di un pacco batterie da 5 MWh che dall'agosto del 2019 si muove dal porto di Sandefjord puntando alla bellezza dei fiordi norvegesi. E con queste belle immagini ragazzi terminiamo il video di oggi, mi raccomando continuate a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale e lasciando un bel like, continuerò a portarvi contenuti sulla mobilità elettrica ogni martedì e venerdì alle 12 e allieterò le vostre domeniche mattina con le news elettriche della settimana, appuntamento ormai fisso da più di qualche mese alle ore 10 e in live alle ore 21 per una chiacchierata tra amici. Vi ringrazio per la gentile preferenza accordata, per il calore che mi dimostrate sempre nei commenti sotto i miei video, a parte qualche pepita di merda che ogni tanto capita ma che schivo abilmente con la mia abile inventiva da comico mancato. Ciao elettronauti, a presto!